Le assicurazioni sono per chi gioca sul sicuro? Noi in Allianz non siamo d'accordo. Da quando Allianz è nata, nel 1890, siamo sempre stati dalla parte di chi va oltre le frontiere, gli oceani, i continenti. Siamo con chissà che senza coraggio non esiste successo, né divertimento, né vita. Siamo a fianco di chi ha il coraggio di iniziare un'attività o di creare una nuova famiglia. Siamo con chi sa crescere con la fatalità, con la sconfitta, ancora più che con il successo. Condividiamo i loro trionfi e i loro drammi. Perché siamo nati proprio per questo. Diamo protezione e sicurezza, perché la nostra azienda è solida, forte, è costruita per affrontare e superare le difficoltà. Sappiamo cosa fare e indichiamo la direzione perché capiamo il mondo. Conosciamo le vite e i bisogni dei nostri clienti. Agiamo con integrità, parliamo sinceramente e manteniamo le promesse. Tutte le nostre azioni vogliono incoraggiarti a prendere in mano la tua vita. Vai avanti con coraggio. Noi siamo con te. Noi siamo con te. E dunque un saluto anche da parte mia a questo nuovo format Allianz Sport Celebrities che vi permetterà di dialogare, di incontrare, di parlare, di conoscere le eccellenze dello sport italiano anche nella loro parte più intima. Quello che vivremo quest'oggi è un evento digitale importante che ci permetterà appunto di entrare nelle pieghe dello sport che è un fatto culturale, è una cosa che troppo spesso viene dimenticata ma lo sport è cultura, lo sport è vita perché nello sport ci troviamo tutto ci troviamo il sentimento, il coraggio, la passione, l'amore a volte anche l'odio perché l'odio fa parte della vita la paura, per esempio la paura che è un sentimento così a volte sottovalutato a volte prendiamo le distanze della paura ma la paura è importante saperla controllare, è importante conoscerla Siamo all'interno dell'Allianz Cloud che è un posto bellissimo, una bellissima struttura io sono sopra il parquet e intorno a me c'è tutto un silenzio di solito questi sono spalti riempiti da persone, da tifosi c'è stata la pandemia e quindi chiaramente a tutto questo non si può ancora accedere pienamente ma presto ci saremo e infatti la gente è tornata a seguire anche gli eventi sportivi c'è una forma di suggestione ulteriore a vivere insieme a voi io sento il rumore dei vostri pensieri all'interno di una struttura così bella e vuota in questo momento vi dico un paio di cose molto importanti perché come dicevo prima si tratta di dialogare insieme a voi allora prima di iniziare di svelarvi anche l'ospite che è già qui al mio fianco voi potete porre al nostro ospite l'eccezione le vostre domande, le curiosità, le potete inviare via chat indicato il vostro nome, il luogo di residenza, il destinatario della domanda in chat è anche presente un numero per le domande che vorrete inviare tramite un vocale whatsapp che ascolteremo in diretta e quindi noi attendiamo le vostre curiosità vi invito infine ad iscrivervi al canale youtube Allianz Experience dove potrete rivedere tutti gli eventi digitali realizzati da Allianz fino ad oggi ci troverete quindi anche la registrazione di questa puntata allora, siamo quasi allo svelamento dell'ospite al mio fianco è un uomo dall'eterno sorriso ma che ha conseguito dei risultati straordinari nella sua carriera di sportivo dico l'eterno sorriso perché ce l'ha veramente sempre dipinto sul volto tra l'altro viene da una zona molto vicina alla mia lui è di Prato, io sono di Pistoia, a pochi chilometri ci separano ma c'è una grande rivalità questo uomo adesso è il momento di conoscerlo è Yuri Chechi buongiorno Yuri buongiorno a te questa rivalità ce la dimentichiamo oggi ce la dimentichiamo anzi c'è questa leggenda che i pistoiesi rubavano le fidanzate pratesi ma tu me la potrai smentire è meglio smentirla va bene, cominciamo per esempio con il ricordare che cosa hai rappresentato tu in fatto di vittorie per lo sport italiano perché se noi andiamo a vedere questa grafica o comunque se lo ricordiamo anche a voce noi troviamo nella tua carriera tantissimo oro tutto l'oro che era possibile trovare nonostante tu abbia avuto anche molta sfortuna parleremo anche di questo perché in certi momenti decisivi della tua carriera hai subito degli infortuni che ti hanno impedito di vincere una medaglia d'oro quando sembrava scontato che tu lo potessi fare visto che eri l'atleta in quel momento molto più fuori parlando di Olimpiadi ovviamente allora però io vorrei cominciare con te dalla tua infancia non vorrei seguire una cronologia però mi sembra molto importante visto che siamo anche sopra un parquet un luogo che tu conosci molto molto bene ecco ritornare a quei profumi della palestra ora questo è il parquet c'è il legno ma io mi ricordo quando ero ragazzino si frequentavano le palestre e quel profumo della gomma io ancora oggi ce l'ho quando lo ritrovo qua e là mi emoziono ecco vorrei chiederti qui vediamo appunto delle foto bellissime tu è da bimbo con dei capelli strepitosi lunghi grazie per avermi ricordato non c'era bisogno adesso di ricordare questa cosa dei capelli andiamo sul po' no vabbè cosa ricordi di quei momenti lì? guarda hai detto una cosa che ricordo molto bene che è proprio il profumo della gomma dei tappeti di quella palestra io proprio in questa foto sono nella palestra nella società ginastica Etruria di Prato io ho iniziato con sport molto diversi mio padre era un appassionato di ciclismo mi ha messo in bicicletta quando avevo sei anni non è scattata la passione per questo sport anche se adesso mi piace molto mia madre mi faceva provare altri sport poi casualmente sono andato in questa palestra alla luce di Prato e lì ho capito che la mia ricerca per uno sport che mi appassionava era finita perché mi sono innamorato subito di questo sport dei bambini che facevano queste acrobazie queste cose strane volevo provare anche io e dal giorno dopo che ho chiesto a mia madre di portarmi in palestra per fare questo tipo di sport anche se era tua sorella che frequentava quella palestra poi lei ha smesso di diventare lei era la mente e io la braccio lei è un cardiologo bravo importante ah sì? è andato avanti in queste anni senti ho citato prima la paura perché a volte insomma si prendono le distanze dalla paura in realtà la paura fa parte di noi e la paura fa parte dei bambini quindi ecco ti chiedo se tu hai affrontato la palestra è uno sport così impegnativo così difficile che avrebbe comportato tanto impegno tanto sacrificio anche per esorcizzare la tua paura di bambino? io ero un bambino molto introverso un po' particolare e i miei genitori sono stati bravi a stimolarmi nell'attività sportiva anche per vincere queste paure queste insicurezze che avevo sono sempre stato piccolino con i capelli rossi quindi ero anche facile da prendere in giro e questo... cioè tu a scuola ti ricordi di qualcuno che ti osava prenderti in giro? ho delle sensazioni sì assolutamente sì sai quando sei bambino queste cose ti rimangono e lo sport mi ha aiutato molto anche in questo a trovare queste certezze queste sicurezze e le ho espresse subito immediatamente nelle prime gare in cui già ero bravino questa cosa mi ha dato molto molta sicurezza e io credo che lo sport sia una grandissima poi ne parleremo scuola di vita e anche nell'isordine le prime attività di un bambino è molto formativo deve essere fatto nel modo giusto credo che la passione di farlo divertimento sia l'inizio più promettente non fare sport certamente per diventare ricchi belli e famosi anche se per carità non è una cosa fastidiosa anzi ma lo sport deve assolutamente essere deve iniziare per una grande passione se no non funziona pensavo quando mi dicevi che qualcuno magari ti prendeva in giro se poi ti sei preso la tua ridincita assolutamente sì tu sei andato da questo te lo ricordavi assolutamente sì da bambino le prime gare sai perché poi vincevi le prime gare e quindi tornavi a scuola c'era l'articolino sul giornale piccolino allora subito guarda e lì già cominciava molto più diciamo quasi rispetto ti faccio un salto temporale ma comunque riguarda sempre il tuo carattere quindi mi riferisco ai giochi del 2004 a cui tu partecipi per una promessa che hai fatto a tuo padre il padre aveva subito un'infezione insomma e aveva sofferto di questa infezione però poi dopo era guarito tu hai detto se guarisce io parteciperò ai giochi di Atene quando avevi praticamente deciso invece di ritirarti ed è una cosa molto che mi ha colpito moltissimo perché insomma vuol dire che tu avevi una una profonda un profondo legame con i tuoi genitori con tuo padre perché non è come io mi ricordo che per esempio mio padre anche lui si era ammalato qui intanto vediamo appunto i giochi di Atene la cerimonia inaugurale e io dissi vabbè se guarisce da questa malattia io smetto di fumare ma smette di fumare ci mettiamo un attimo ma preparare un'olimpiade è una cosa molto più complicata quindi tu lo sapevi questo sì però sai io credo che per fare delle cose importanti come smette di fumare che è molto importante credo ci sia bisogno sempre di grandi motivazioni o tante piccole motivazioni o una grande motivazione questo secondo me aiuta molto io quando ho preso quella decisione mi ricordo che la promessa fatta con mio padre proprio in un ospedale fu l'ultima di una serie di motivazioni che mi spinsero a provare a fare i giochi olimpici di Atene io avevo smesso perché dopo l'intervento chirurgico avevo rotto il tendere delle bicipite brachiali prima dell'Olimpia di Sidney poi magari ne parleremo però mi ricordo che la diagnosi del professor Perugia illuminare l'epoca dell'ortopedia mi disse Yuri è impossibile che tu possa continuare a fare usò proprio questo termine è impossibile questa cosa mi andava tanto questa cosa mi andava giù quindi volevo dimostrare principalmente a me stesso che ero io il padrone del mio destino io il capitano della mia anima come recito una poesia alla quale sono molto legato che conoscerai Invictus e quindi volevo essere io a decidere e queste serie di motivazioni mi hanno portato a affrontare anche se questa diagnosi funesta questa straordinaria avventura di Atene dove non ho vinto ma quel bronzo vale più di un altro però noi abbiamo il filmato io lo rivedrei in religioso silenzio perché chiaramente tu hai detto non hai vinto ma a quella a quei giochi olimpici si legano un ricordo legato appunto ad una tra virgolette piccola sconfitta c'è qualcosa che ti ricordi in più capita anche se non lo rivedo molto spesso sono molto vive dentro di me però Atene come ti dicevo è stata un'esperienza straordinaria che mi ha gratificato più come uomo è una sfida vinta dall'uomo prima parlavi di paure e ti dico una cosa velocemente che riguarda la paura nell'esercizio di atlanta quando vinsi l'oro poi magari ne parleremo non so se lo vedremo in quel circa minuto di esercizio io prima di iniziare avevo molta paura perché mi stavo giocando la medaglia d'oro ma è stato facile abbastanza facile scegliere di non aver paura proprio ho scelto perché ero pronto per farlo ero preparatissimo come atleta per scegliere di non aver paura e di quel minuto io di atlanta ho pochissimi ricordi anzi quasi niente è incredibile io non ho ricordi e vedendo atlanta adesso invece io ho tutti i ricordi di quel minuto lì perché il braccio mi faceva male avevo paura pensavo quasi speriamo tenga quindi non ero concentratissimo sull'esercizio perché avevo paura non sono riuscito a scegliere di non aver paura non ero pronto per farlo ma nonostante questo ho tirato fuori delle forze delle capacità che solo quando siamo obbligati a tirarle fuori ci rendiamo conto di averle io penso davvero che lì è stato un uomo che con le sue paure ha fatto qualcosa di straordinario non era un atleta perfetto ma era un uomo abbastanza forte per fare qualcosa di straordinario tra l'altro in questa circostanza tu sei il più bravo però vince il greco Tampakos per dei favoritismi che poi dopo sono emersi in maniera però tu successivamente hai detto no ma forse meritava il bulgaro Jobcev in realtà poi insomma tu l'avevi vinta questa questa melania ero convinto che il migliore fosse stato Jobcev per quello ho fatto anche un gesto un po' poco sportivo tirando sul braccio del bulgaro dicendo è lui il numero uno ecco il greco accanto che poverino quindi insomma non dico per la prima volta ma ti sei misurato con la sconfizia mi è venuta in mente una scena di questi giorni con Guardiola che bacia la medaglia lui non ha vinto la Champions League con il Manchester City era il grande favorito perde contro il Chelsea l'ultima volta che vince la Champions è col Barcellona di Messi e infatti adesso tutti stanno dicendo eh sì beh certo perché prima c'aveva Messi e adesso come se Guardiola fosse uno che poi nel frattempo non ha vinto altro quindi è sempre brutto comunque credo subire una sconfitta lì ti sei misurato con la sconfitta tu sei uno che fino a quel momento aveva un cattivo rapporto con la sconfitta guarda io sperando di non deludere nessuno ma però devo dire la verità e sai che io dico quello che penso e che spesso è un pregio eh io non sono molto d'accordo con la famosa frase del Barone de Coubertin che importante è partecipare importante è partecipare per me l'importante è vincere cioè io gareggio per vincere ovviamente nel totale rispetto delle regole altrimenti non potrei mai accettare una vittoria se non sono rispettate le regole e in però con la storia di Atene devo dire che è stato straordinario il fatto di poter di capire che invece non è così ho cambiato idea io cambio idea poche volte devo dire la verità però quando capisco di essere in errore lo ammetto e lì ho capito che è sbagliato questo concetto perché è vero alcune sconfitte valgono più di una vittoria capisco Guardiola quel bronzo lì come dicevo prima è molto più importante per me perché come sono come è stata la preparazione come ci sei arrivato in quel momento se veramente tu hai fatto tutto quello che era necessario fare ma veramente e sei consapevole sei in qualche modo sincero fino a fondo con te stesso che ce l'hai veramente messa tutta quella è la vittoria chiaro che poi il premio finale quindi la medaglia aiuta molto ma veramente ho capito che è quel percorso che ti fa vincere ma questa sconfitta che poi sconfitta non era ma insomma in ogni caso in quel momento l'hai vissuta come età ti ha reso più più completo cioè ti ha completato ti ha reso più uomo assolutamente sì mi ha reso anche più forte lo dico forse modestamente ma come uomo molto più forte perché ho capito che ho la forza di provarci fino in fondo io nella preparazione delle Olimpiadi di Atene poi sarebbe lungo non lo so non mi voglio tediare però c'erano degli allenamenti in cui dovevo fare una mole di esercizi che non riuscivo a fare perché il braccio mi faceva molto male io però ogni giorno ci ho provato fino in fondo con il rischio anche di rifarmi male però non c'è stato un giorno in cui veramente ce l'ho messa tutta e questo mi ha fatto capire che sono uno in grado di mettercela tutta sempre e magari una volta posso perdere ma la seconda no la seconda io vinco perché ho questa capacità e quindi alcune volte l'argento di Guardiola o il bronzo di Uri Kek ho fatto un paragone un po' ardito però mi faceva essere un po' secondo me valgono esatto valgono più di alcune vittorie abbiamo visto prima un'immagine se è possibile rivederla quella della quella la classica tua figura della croce la croce sugli anelli che sembra facile che sembra appunto sembra facile questa è un'altra molto difficile comunque questa è l'orizzontale la croce orizzontale ma anche questa e questa anche è molto difficile allora ti chiamo nel signore degli anelli per appunto per l'evidente riferimento a questa a questa figura ma in realtà il signore degli anelli perché tu eri un appassionato del romanzo di Tolkien dove però ci sono dei riferimenti abbastanza chiari di natura religiosa in generale ma anche cattolica se vogliamo allora questo è un tema un po' delicato non so se chiede se farti questa domanda oppure no però il rapporto con la fede per un atleta è una parte è un fatto insomma è un fatto io credo che tu ti sia confrontato con questa questione sì sì mi sono confrontato anzi indipendentemente dal discorso dell'atleta è una domanda molto diciamo interessante anche se intima e qui mi fa piacere parlare anche se in Italia è sempre quando si parla di fede devi stare sempre un po' attento ma non credo dire niente di male nel dire che ho fatto un percorso per me molto importante vengo da una famiglia atea ma nonostante questo mi hanno io ho chiesto di fare un percorso diverso quindi mi portavano a catechismo ho fatto tutto andavo in chiesa fin da piccolo fin da piccolo io ero un po' strano io volevo ma per l'influenza degli amici sai sinceramente non ricordo però ricordo che volevo fare questo e i miei natori sono stati bravissimi anche in questo caso a secondare questa mia scelta poi mi sono trasferito in un collegio arcivescovile quindi ho fatto un percorso davvero molto importante molto interno dove invece ho capito che sono diciamo non sono credente ma molti valori molti valori che in qualche modo il cristianesimo il cattolicesimo incarna sono vicinissimi ai miei vicinissimi e questo per me è molto importante perché perché mi aiuta ad avere un rapporto con la fede buono ma anche se non ce l'ho perché io rispetto ma adesso non ce l'hai ma mentre eri proprio atleta nel piano delle tue facoltà è stato no assolutamente no il percorso è stato vicino alla maggiore età verso i 18 anni ho fatto diciamo un percorso molto però è stato difficile complesso ma molto bello cioè quando tu vedi un atleta che si fa il segno della croce lo rispetto assolutamente ma guarda io ti dico una cosa poi ho tanti amici anche anche nel mondo diciamo anche del clero ma ad Atene proprio ad Atene c'era un luogo di culto e per non creare problemi davano degli orari no? quindi da questo ai musulmani da questo ai cristiani poi allora ti posso assicurare che nessun atleta ha rispettato ma gli orari è una cosa straordinaria se ci pensi è straordinaria pregavano insieme diversi ma insieme e questo è un messaggio per me straordinario che questo dovrebbe essere nella toleranza nel rispetto per chi ha fedi diverse o per chi non ha fede i giochi olimpici ti danno questo c'è questa fratellanza che si scatena in tutte le direzioni guarda ho vissuto momenti meravigliosi le olimpiadi non ti voglio interrompere figurati proprio per per quanto le olimpiadi riescono a raccontare ci sono stati anche momenti poco edificanti poco belli ma mi voglio concentrare su quelli bellissimi ho visto nella mensa cenare insieme pranzare insieme la squadra israeliana l'unica squadra con le guardie del corpo insieme ai ragazzi della palestina era la cosa più normale del mondo e però vedi tu te palestina israeli non è così scontato le coree hanno sfilato sotto un'unica bandiera ci sono messaggi davvero straordinari che solo le olimpiadi possono dare tu hai fatto un accenno prima a questo però restiamo sulla parte tua intima che si lega comunque al risultato alla performance perché c'è un momento in cui un atleta è completamente solo voi atleti siete seguiti avete gli allenatori avete uno staff quelli importanti magari ce l'hanno anche abbastanza ricco però c'è quel momento in cui un atleta è completamente da solo di fronte alla performance ecco ti chiedo che cosa quanto dura a quell'istante che cosa si pensa in quel momento se si pensano sempre delle cose diverse non so la solitudine nell'atleta è una costante è una cosa che assolutamente ci devi convivere e io lo dico principalmente perché comunque ho fatto uno sport individuale anche se c'era una squadra c'era un team però poi come dicevi giustamente tu nel momento della performance sei tu e basta qui siamo in un bellissimo campo da basket dove ci sono più atleti che nella squadra si confrontano io mi allenavo con la squadra poi però agli anelli al cavallo alle parallele al corpo libero ero io e basta l'attrezzo era sempre quello e il momento prima della performance o durante la performance è un momento molto difficile da gestire però come ti dicevo prima è fondamentale la preparazione che fai prima il lavoro che fai prima questa è la variante perché questa solitudine sia una solitudine quasi piacevole rispetto a una solitudine ma c'è un pensiero a cui ricorvi c'è una sorta di salvagente del momento oppure no no perché se come ti dicevo prima non pensi a nulla durante un esercizio così pensate è complicato fare un esercizio di ginnastica da un punto di vista coordinativo cioè se pensi a ogni movimento non ci stai dietro quindi devi essere proprio nel tuo engagement completo e non pensare a niente quando riesci a far questo vuol dire che va bene mi ricordo parlando con Carmelo Ben mi diceva lui portava avanti la figura del giocato cioè che un grande atleta è giocato dal momento cioè riesce a fare quella cosa suo malgrado è proprio quel suo malgrado che poi lo porta a superare qualsiasi ostacolo ed è quello che insomma è proprio così però come ti dicevo prima è davvero molto importante il tipo di preparazione che fai per arrivare lì e anche da un punto di vista mentale psicologico noi lavoriamo molto anche su questo su questo aspetto ovviamente fai conto che io l'esercizio di atlanta più che di atene di atlanta io nella mia testa l'ho rifatto centinaia centinaia di volte prima di andare a letto quando mi alzavo prima dell'allenamento e la cosa straordinaria è che nella mia testa l'esercizio di atlanta è sempre venuto bene cioè non l'ho mai sbagliato questo è stato molto importante visto che l'hai citato se è possibile vederlo con l'esercizio di atlanta perché è appunto il culmine della carriera di di yuri che arriva ad atlanta quando yuri per motivi adesso insomma spiegheremo aveva dovuto saltare i giochi olimpici di di Barcellona giusto? giusto ecco allora vediamo questo momento che è la perfezione la perfezione fragile potrei definire diciamo che qui ci sono andato vicino dai almeno anche perché la cosa che da un certo punto è quasi alinante che fai conto che noi lavoriamo tantissimo ci aliniamo tutti i giorni molte ore per cercare di raggiungere la perfezione ma sai che comunque non la raggiungerai mai perché la perfezione per noi non esiste però tu lavori per la perfezione però lavori per la perfezione quindi il punteggio fu quasi 9,90 quindi 9,887 quindi tu ti ricordi dov'è che sbagliasti quel dettaglio che si cioè è appena successo in una orizzontale ho alzato leggermente i piedi un dettaglio che si vede benissimo se uno è e quel decimo lì che mi ha per il resto hai detto bene è perfetto però quella quella cosa ti ha precluso il massimo il 10 ecco qua la croce la croce è molto perfetta anche le verticali vedi gli anelli si muovono credimi per nello fermi non è facile l'uscita vedi il doppio salto corpo teso l'arrivo è perfetto e qui è stato tu questo momento qui l'hai definito una liberazione cioè il momento dell'uscita questo atterraggio perfetto è la liberazione cioè è quel momento a parte che hai la percezione immediata di aver fatto l'avere vinto l'avere vinto io sapevo di aver vinto ecco poi la liberazione parliamo di quel momento lì della liberazione perché in quel momento mi sono proprio svegliato io veramente l'ho riguardato con voi io stavo cercando anche il momento dell'imperfezione l'ho vista adesso ma non l'ho sentito non me la ricordo era tutto molto diciamo naturale si può rivedere un attimo tu spieghi raccontami il momento in modo da rivedere quel momento in cui si coglie l'imperfezione però è stato proprio un momento quasi di liberazione perché mi sono svegliato e ho detto caspita ce l'ho fatta cioè è finito questo percorso ed era un percorso pesante importante sentivo che questa medaglia doveva arrivare l'oro doveva arrivare e non era facile da gestire tutto questo e il fatto di essere riuscito in quel momento a fare esattamente quello per il quale avevo lavorato quattro anni quattro anni è stato proprio un momento come dicevi di liberazione poi dopo la gioia la felicità l'inno quanto dura un esercizio? circa un minuto un minuto quattro anni per un minuto per quel minuto per quel minuto in quel momento allora spiega aspetta non voglio perdermi il momento si ti faccio vedere guarda ti dico questa è l'entrata con un movimento un po' di slancio poi arriverò in croce vedi ecco guarda croce guarda adesso alzo i piedi alzo i piedi e su vedi eccolo guarda c'è stato quell'attimo in cui i talloni tu avresti dovuto alzarti solo con le braccia no dovevo alzarmi con i piedi rimanere con il busto completamente disteso esatto bravissimo ho capito bravissimo dovevo alzarmi col busto disteso è successo abbastanza subito subito e tu ma tu no per me era perfetto rivedendolo meglio così perché se poi pensavo ad Atene sono stato imperfetto perché l'ho sentito il momento ho fatto due imperfezioni ad Atene caspita ho sbagliato il pezzetto quindi mi sono è un po' ci sta di andare in confusione ci sta sono umano sono umano sono fichissimo ma sono umano sei fichissimo sei umano anche se lo sembri poi coi capelli ma andiamo però ora perché lui ce l'ha non c'è bisogno di puntalizzare su questo aspetto lui ce l'ha i capelli però come vezzo perché è vanitoso nel 97 tu non ci ritiro però poi ci ripensi allora ti chiedo ci ripensi perché credi che forse non sei pronto ad una vita normale o ci ripensi banalmente perché credi che comunque dal punto di vista fisico puoi dare ancora tanto un po' tutte e due le cose Alessandro sai perché nel 97 io dopo le Olimpiadi vinco ancora un campionato mondiale il quinto e lì veramente le motivazioni ho fatto molta fatica a ritrovarla perché ero arrivato a un punto in cui ero veramente appagato poi è passato un po' di tempo e nella vita normale ancora non ci stavo bene diciamo normale senza sentire quelle emozioni quelle sensazioni anche quella routine giornaliera che poi quando la fai scusami come andare in pensione uno lavora per una vita e poi dice da domani vai in pensione e che faccio è un paragone molto vicino alla realtà e quindi ecco non ero pronto per la pensione per la pensione e quindi ho detto basta rincomincio però lì ho fatto un errore molto grave che magari anche nella vita non si dovrebbe fare perché quando arrivi ad alto livello e dice beh io sono quassù per rimanere quassù posso fare un po' meno fatica perché non ho fatta tanta prima perché allenarmi ancora sei ore al giorno tanto ho 25 mondiali le Olimpiadi faccio un po' meno e alle Olimpiadi prossime ci arrivo lo stesso in buona forma non ho avuto ecco l'umiltà mi è mancato un po' di umiltà nell'accettare il fatto che se anche se è arrivato ad alto livello ma vuoi rimanere lì devi fare le stesse cose e forse qualcosa di più anche perché gli altri non ti stanno a guardare gli altri lavorano e questa quindi non coerenza con il programma per portarmi a Sidney 2000 credo che sia stata uno dei fattori per il quale purtroppo un mese e mezzo prima ho avuto con l'incidente e ho rotto il tendine del bicipite brachiale è proprio perché non ero diciamo non avevo accettato di lavorare nel modo giusto ma precedentemente tu nel 92 non vai a Barcellona per la rottura per un'infortunio ancora più grave che è la rottura del tendine d'Achille è molto grave perché questo signore qua noi ce lo ricordiamo soprattutto per le sue evoluzioni agli anelli ma in realtà era un predestinato anche nel corpo libero vero però quell'infortunio al tendine d'Achille è talmente grave che non soltanto non lo fa andare a delle olimpiadi che lui avrebbe vinto certamente con buonissimi ma l'avresti vinto probabilmente anche nel corpo libero io la medaglia la vincevo al corpo libero poi al anelli andavo benino anche nel concorso generale cioè la somma delle attrezze era una specialità che mi piaceva molto quindi prima ancora era il corpo libero sì sì io al corpo libero era sicuramente sai cos'è che al corpo libero avevo un talento naturale proprio mi veniva tutto spontaneo e quindi dicevo ma caspita vado al corpo libero faccio meno fatica mi viene tutto spontaneo perché andare a specializzarmi negli anelli dove facevo molta più fatica e paradossalmente ed è la verità non avevo il talento agli anelli e quindi non avevo il talento io per fare quello che ho fatto agli anelli ho dovuto lavorare molto di più perché dovevo sopperire a questa mancanza di talento questo dice molto di te questo dice molto di te cioè non siamo soltanto di fronte ad un atleta pazzesco con delle risorse molto importanti psicologiche eccetera ma siamo di fronte adesso mi viene da dirlo a un super uomo cioè sono un po' in soggezione va bene mi piace quindi siamo pari con i capelli ci può stare ci può stare no però no però ecco per esempio il superare l'infortunio l'infortunio fisico ora anche qui banalmente superare un infortunio non è così non è così semplice è molto difficile la testa è importante lo dico anche perché significa visto che lo sport è la metafora della vita è come quando uno deve superare una difficoltà avuta sul lavoro un lavoro fatto male un qualcosa che insomma da cui è difficile riprendersi però tu ci sei riuscito in che modo ma guarda è inutile girarci intorno cioè quando hai una criticità così un infortunio così grave poi a me è successa una settimana prima dei giochi olimpici cioè dopo è una cosa che veramente ti destabilizza poi un infortunio come dicevi tu molto grave ed è una cosa tremenda negativa brutta non è inutile stare lì a dire e io ricordo quel momento con grande criticità non tanto per l'infortunio in se stesso che era una cosa grave ma perché io avevo pensato che se faccio tutto quello che è necessario fare raggiungo l'obiettivo e invece purtroppo può capitare come dicevi tu che nella vita durante questo percorso per raggiungere il tuo obiettivo ti arriva un ostacolo molto molto alto questo periodo secondo me insomma è abbastanza relazionale cioè la pandemia mondiale chi l'avrebbe mai detto non è colpa nostra però ce la siamo trovata ecco io in quel caso nell'infortunio di Atene di Atran scusate di Barcellona ho fatto una cosa molto difficile ma che secondo me si può fare e non solo ho affrontato l'infortunio ma l'ho trasformato in un'opportunità che magari l'avranno di tante volte trasformare le criticità in opportunità è chiaro che è difficile e è facile dire la parola però credo che alcune volte dipenda da noi e non c'è altra possibilità e io il corpo libero come hai detto giustamente te non potevo più farlo il tendere mi avrei attaccato ma non avevo più quelle capacità ho detto bene non vado a Barcellona non vinco più a corpo libero fra quattro anni ci sono le Olimpiadi di Atlanta mi specializzo negli anelli lavorerò di più farò più fatica ma vinco le Olimpiadi di Atlanta è molto difficile però molte volte dipende da noi dovremmo essere anche capace di capire che il cambiamento forse uscendo dalla nostra comfort zone da quello che ti viene facile me il corpo libero mi fa facile uscendo da lì è un'opportunità uscendo da lì che è stato difficile accettarla ma è stata un'opportunità non c'è dubbio ma tu te lo ricordi ancora lo stock il rumore lo sogni mai la notte ma io ancora sogno sogno troppo sogno di andare fra le gare che non sono pronto io quando ho rotto il tendine d'Achille noi avevamo queste pedane del corpo libero che erano abbastanza elastiche non come adesso che fanno dei salti mostruosi perché sono molto elastiche però c'era del legno e sopra una striscia di gomma eccetera quando ho nel momento di spinta ho sentito questo rumore pazzesco ho detto ma guardate ho rotto la pedana giuro ho rotto la pedana poi tiro sul piede guardo come spontaneamente mi ha tirato sul piede provo a muovere il piede il piede non si muove ero già un po' sotto shock ma perché non si muove questo piede ma che succede guardo avevo un buco nel tendine ho rotto il tendine di Achille e non la pedana quindi pensa che il rumore pazzesco che fa senti ma quando si prepara un'impresa come quella di di Atalanta quanto quanto ci si allena cioè c'è una una forma progressiva di allenamento cioè arrivi ad allenarti non so perché veramente te lo chiedo perché non lo so tipo quante ore al giorno dipende un po' dai appunto dal lavoro dai carichi però ecco nel momento di massimo carico di lavoro un ginnasta professionista che deve preparare le olimpiadi poi dipende dall'attrezzo da quante attrezze però comunque meno di sei ore sei ore e mezzo al giorno distribuita mattina e pomeriggio sì non può essere cioè perché è un lavoro molto diciamo dettagliato lungo da un punto di vista di fatica fisica un canottiere fa molto più fatica un maratoneta fa molto più fatica però noi dobbiamo fare tanti esercizi di preparazione sempre con grande concentrazione se non rischi non solo di sbagliare ma anche di farti male c'è tanto lavoro di preparazione fisica specifica quindi sono tanti ordinamento e soprattutto ogni giorno devi fare le stesse cose questo è molto difficile ma è necessario tu con l'atletica sei con la ginnastica sei diventato ricco ma sai dipende che riferimento dai che parametri io sono molto penale quindi io ma io non è un difetto grave secondo me anzi mi piace scherzando no no ma no perché ti dico no no la mia risposta è semplice se mi paragoni a ora Ronaldo mi sembra ancora eccessivo ma un calciatore che so Antonio Conte che ha preso 7 milioni e mezzo per andar via adesso ecco per esempio allora anche Antonio Conte mettiamoci lui no no è chiaro che sarebbe no ti direi di no ma per quello che il valore che ho devito al denaro io sì sono assolutamente ricco cioè mai avrei pensato di guadagnare questi soldi facendo ginnastica artistica ma la domanda era tendenziosa cioè nel senso una vittoria quindi quanto ti cambia la vita e te la cambia nella misura in cui tu a quel punto diventi testimonial sponsor e soldi te la cambia perché appunto economicamente diventi uno benestante diciamo questo termine o te la cambia per altri per altri motivi te la cambia sicuramente anche per quel motivo sarebbe sarei poco onesto e devi no no assolutamente sono rimasto non è cambiato niente eccetera io mi sono levato delle soddisfazioni anche molto diciamo effimere se si può dire sono appassionato di auto di orologi non l'avrei potuto fare quindi mi è cambiata anche in questo modo la vita certo è che e questo lo dico con grande diciamo anche onestà e convinzione non ho mai mai fatto una gara un allenamento una preparazione un olimpiadi con l'obiettivo di guadagnare soldi per quella gara lì è vero è così è stata una cosa secondaria bellissima anzi ne avrei voluti guadagnare di più come penso chiunque altro ma non l'ho mai fatto per ganaro questo lo dico con grande onestà e credo che sia anche una una buona diciamo impostazione per far bene la propria attività perché la passione c'è sempre stata a proposito di soldi e anche di valori perché ne abbiamo già accennato i giochi olimpici oggi quanti valori del passato riescono a trattenere quanto per esempio gli interessi stanno in qualche maniera coprendo determinati valori da osservatore in questo momento esterno ma che comunque segue tutto beh per conto io ho fatto in diversi ruoli otto olimpiadi estive e due invernali quindi insomma un minimo di esperienza ce l'ho e comunque le cose sono un po' cambiate c'è molto più interesse anche dal punto di vista economico ci sono più realtà che investono nelle olimpiadi però ti posso assicurare che vivere le olimpiadi ma proprio nel villaggio olimpico le gare eccetera si respira ancora quella quella atmosfera che solo le olimpiadi sa dare è diverso da un campionato mondiale è diverso da qualsiasi gara io ho parlato con Roger Federer ad Atene che per me è un mito assoluto Roger è una persona straordinaria lui mi ha che poi lì vinse il doppio con Lovrinka e nell'individuale uscì era dispiaciutissimo e chiaramente lui questa passione questo voglio di fare bene alle olimpiadi di vincere la medalia d'oro per il suo paese per se stesso avrà avuto bisogno di soldi no avrà avuto bisogno di altre vittorie è solo l'olimpiadi che ti dà questa sì però questa è la mentalità di molti protagonisti degli sport più remunerati e la mentalità non è quella di partecipare ai giochi molto spesso è capitato quindi sì è vero però secondo me dipende poi sempre dalla persona io ho visto davvero pochissimi li ho visti alcuni casi quasi indecenti però ho visto anche straordinari atleti di sport molto conosciuti molto famosi molto ricchi che vivevano olimpiadi nel modo più bello possibile alcune sono leggende che alcuni atleti volevano andare nell'albergo 5 stelle non al villaggio non è vero è successo poche volte perché vivere olimpiadi è una cosa straordinaria per chiunque allora sì tra un minutino cominceremo anche a rispondere alle domande che arrivano ci hanno fatto le domande sì 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 tantissimo facile fatele facile in centinaia geografia e storia malissimo tra l'altro lui ha detto può star qui con noi fino a stanotte quindi no 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 prima delle domande però posso dire che mi fa molto piacere rispondere no stare qui con voi anche noi siamo contenti di questo però voglio tornare per un attimo alla croce perché tu resti nell'immaginario di tutti come il protagonista della croce di questo esercizio terribile cioè di quel momento terribile della tua performance è terribile perché tu a 50 anni quando hai festeggiato 50 anni hai detto ok quindi ieri quindi ok lo voglio lo voglio rifare ecco quanto è durata? è stata una cosa tremenda mi sono allenato un mesetto perché chiaramente se no gli rischi di farti male però era uno sfizio mio volevo capire vedere e poi ho provato me la sono anche filmata ci sono stato un secondo appena però sentivo delle tensioni particolari che te lasciamo stare e da lì un secondo perché poi dopo molti ti hanno seguito sui social su Instagram eccetera con alcuni tuoi video nei quali fai delle cose che in noi comuni mortali ma neanche se ci proviamo lo fai perché è una cosa è un po' c'è un po' di vanità in questa in questa tua un po' sì trovi? quindi sì ma sì è una forma di esibizionismo vabbè molto sai Ale che io non riesco a dire le cose in parte sì ovviamente sì certo che mi fa piacere anche quando si dice ah 50 anni Yuri Keki riesce ancora a fare è piacevole però non è solo questo il motivo la verità è questa io sono molto convinto che dare un segnale stimolare le persone a fare dell'attività motoria ognuno per le proprie capacità per le proprie necessità per i propri livelli è davvero molto importante questi video li ho fatti soprattutto nel momento di lockdown dove la gente non poteva andare in palestra non si poteva muovere per umiliarla ulteriormente per una forma di umiliazione per stimolare a fare delle cose a casa a fare solo tre flessioni io provavo a fare tre flessioni a quattro facevo già fatica però vedi ne hai fatti tre e quello già è una buona cosa guardando i tuoi dici allora sono arrivate posso leggere sì è arrivata un sacco di ma un sacco proprio bene vuol dire che hai detto cose anche al momento dell'infortunio prima di Barcellona durissimo per te hai poi avuto momenti nei quali hai pensato di mollare tutto ah bella domanda questo lo chiede Fabio da Prato peraltro grande Fabio grande Fabio penso che un giorno sì e un giorno sì 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 assolutamente tante volte soprattutto ho detto bene il primo infortunio quello di di Barcellona ma anche Atene anche scusate quello di Sidney però molte volte andavo a letto dicendo basta domani rinuncio non ce la faccio troppo fatica poi ecco ti dico la verità non so il motivo non lo so la mattina mi alzavo dicevo no ci voglio riprovare ancora una volta ci voglio riprovare e quindi evidentemente trovavo qualcosa dentro per provarci ancora però è stato molto difficile perché spesso volevo dimollare ovviamente ci sono anche delle domande personali imbarazzanti un vocale c'è un vocale mi dico che c'è un vocale buonasera a tutti sono Marco chiamo da Bari volevo approfittare dell'occasione per chiedere a Yuri alla luce della tua incredibile carriera quali suggerimenti daresti ad un atleta che inizia oggi quali sono secondo te le cose più importanti per diventare un ginnasta vincente grazie questa è una bella domanda in parte credo di avere non risposto però ho detto delle cose per me importanti soprattutto uno sport come la ginnastica un po' in tutti ma soprattutto nella ginnastica un ragazzo o una ragazza deve iniziare perché sente una grande passione per questa disciplina c'è proprio un grande piacere nel farlo perché altrimenti quando poi diventa una sorta di professione se non continua ad avere questo piacere nel fare la tua disciplina è molto difficile andare avanti quindi capire bene che questa cosa che vuoi fare con tutto te stesso altrimenti è molto difficile no c'è una molto bella di Roberto da Bologna che si dichiara onorato come italiano per quello che hai fatto grazie e ti chiede un consiglio da dare a un nonno che parlerà con suo nipote di 5 anni di ciò che hai fatto amore mio e che consigli dargli per affrontare lo sport con questa purezza che ti ha contraddistinto se è un nonno sicuramente amerà il nipote in maniera totale quindi darà i consigli migliori possibile è difficile che possa dare un consiglio migliore di un nonno che lo dà a un nipote perché credo che la cosa migliore per provare a educare i propri figli e nipoti sia quella di farlo con amore sbagli meno cose possibili e quindi sicuramente lo farà detto questo io come dicevo prima vorrei che i ragazzi iniziassero a fare l'attività sportiva come è successo per me per divertimento cioè deve essere proprio un divertimento molte volte mi è successo di vedere dei genitori spingere i ragazzi nell'attività perché era quella che voleva fare il genitore magari appunto il classico calcio perché devi diventare famoso o altri sport ecco questo sarebbe il mio consiglio è di non fare assolutamente questo errore allora Sergio da Milano ti chiede se vede una differenza tra la vede una differenza tra la sua generazione e la generazione di oggi sempre cioè i figli social network eccetera anche a livello è una cosa interessante a livello di coordinamento motorio perché questo è un tema per chi ha figli insomma vedere questi ragazzi sempre sul telefonino una volta c'erano due cose per noi ragazzi giovani uno era andare a fare sport e poi c'era l'altro e adesso è la seconda due cose adesso stanno tanto su questa telefonina guarda ora noi scherziamo ma è una è un aspetto davvero molto preoccupante io ogni anno mi occupo in maniera marginale comunque anche di attività con i bambini anche di ginnastica a livello di base non non ad alto livello e facciamo una manifestazione molto bella anche con altri atleti dove portiamo nelle piazze tanti bambini delle scuole elementari a fare un po' di attività motoria e io ti posso assicurare che questa manifestazione la facciamo da 20 anni che negli ultimi anni ho visto materialmente nei bambini dell'età diciamo delle scuole primarie un'involuzione incredibile da punto di vista motorio peggio ancora una evoluzione incredibile dal punto di vista del peso abbiamo la percentuale di obesità infantile più alta in Europa e questo è molto grave io quando gioco con questi bambini ti posso assicurare che il 50% non ha la percezione del rotolamento la capovolta che si faceva per giocare il 50% dei bambini non riesce a fare la capovolta voi direte ma che cacchio serve no no mia figlia non riesceva a farla serve è molto importante per capire com'è il tuo corpo per avere il giusto coordinamento nello spazio e quindi questo credo che sia un grosso problema che spero mi auguro fortemente ci si possa mettere il medio il prima possibile allora ci sono tante domande ad alcune in realtà abbiamo un po' risposto durante una notte chiacchierata però adesso c'è un vocale buonasera sono Daniela da Milano volevo chiedere a Iuri ma dove trovi la motivazione ancora oggi per allenarti tutti i giorni e con grande dedizione grazie bella domanda Daniela vero si chiamava sì oggi intanto quante ore ti alleni no mi alleno poco cioè ti alleni quando hai tempo purtroppo mi alleno quando ho tempo ma cerco di programmare un po' gli allenamenti perché una cosa importante è comunque avere un minimo di continuità di programmazione se no magari se ti alleni due settimane a bomba puoi stare fermo due è la cosa peggiore quindi mi organizzo la mia agenda anche di lavoro cercando poi quella mezz'ora di tempo per allenarmi e la motivazione è che realmente non ce ne sono altre e il fatto che avendo costanza nell'attività motoria muovendomi nelle mie diciamo capacità e caratteristiche sto molto meglio fisicamente di testa e a 50 anni non devo vincere più niente voglio stare ad esserlo bene con me stesso e quindi questa è la motivazione che mi mette lì a fare ancora un po' di allenamento allora c'è Domenico da Bari che dice chiede una cosa anche questa interessante perché come si gestisce lo stress da prestazione perché è un fatto che caratterizza tutte le prestazioni che sono appunto prestazioni dello sport ma prestazioni appunto lavorative io vedo tante persone che vivono con ansia la prestazione e non c'è modo peggiore credo che sia un po' connaturato alla figura stessa però certo se tu una cosa la vivi con ansia poi c'è il rischio che al momento opportuno tu faccia flop è proprio così è proprio così però come abbiamo credo accennato nella nostra chiacchierata la cosa più importante è come ti prepari al momento della prestazione e in cui sentirai l'ansia è evidente che poi alcuni riescono a gestirla meglio e alcuni peggio ma ti posso assicurare che tutti la possono migliorare e tutti la possono allenare questa sensazione di ansia se ti prepari bene chiaramente come quando facevi l'esame a scuola sei preparato eri più tranquillo poi è chiaro uno gestisce meglio o peggio l'ansia però la preparazione che è molto importante e se posso ecco dare un consiglio anche se è un po' complesso magari trovare il modo di dare un consiglio su una cosa così anche personale è quella di fare come riferimento per la performance finale se magari è una cosa con altri players con altri contendenti di fare il meglio davvero delle proprie possibilità non guardare troppo il resto per me questo è stato molto importante io all'inizio delle gare guardavo sempre i miei avversari e affrontavo la gara in relazione a come facevano loro se erano se erano fatto molto bene caspita come faccio adesso per fare tanto bene se sbagliavano dice vabbè adesso è un po' più facile magari quindi non trovavo la giusta concentrazione quando ho cominciato a dire bene non guardo nessuno mi concentro sulla mia performance su quello che posso fare le cose sono andate molto meglio anche se prendere possesso fisico del luogo in cui si fanno le cose credo sia importante sì perché se no si è troppo isolati cioè si è straniati in maniera esagerata no? assolutamente sì e questo potrebbe anche devi trovare un giusto equilibrio appunto anche vedendo gli altri però davvero è molto importante secondo me riuscire a performare sapendo quali sono le proprie capacità allora guarda Giulia che è una ginnasta da Verona dice siamo collegate con un gruppo di ginnaste amore quindi quale valore ti ha insegnato maggiormente la ginnastica artistica utile nella tua quotidianità cioè quindi valore sceglierlo tu amicizia solidarietà non lo so sono davvero tanti però guarda uno tanti però te ne dico un paio dai il primo è è il fatto della meritocrazia che spesso ci si dimentica quanto sia importante nello sport e nella vita no? cioè si preme chi merita se non è il tuo momento devi accettare questa cosa e verrà se lavori migliori arriverà e quando sei premiato per il merito è una cosa straordinaria mi ha fatto capire che bisogna credere molto nelle proprie capacità il rispetto delle regole e poi l'ultima cosa e se no magari faccio un po' di confusione però mi piace questo dirlo a Giulia e alle sue ragazze che possiamo davvero provare ad alzare quell'asticella che pensiamo sia quella dei nostri limiti no? come ipotesi io posso arrivare qua bene ecco c'è la possibilità di alzarlo un pochino ci vuole un po' di coraggio eh però quel po' di coraggio per alzare l'asticella ti permette davvero poi di essere nel futuro un ginnasta una ginnasta migliore e attenzione sta parlando di coraggio e non di quella forma di fanatismo di se stesse che ogni tanto qualcuno tira fuori dice quando ma sai lui è un fanatico del fisico è un fanatico no perché con quel tipo di comportamento di atteggiamento di attitudine mentale non credo io ho parlato di coraggio esatto neanche di incoscienza di dire ah mi butto a fare questo no no deve essere una cosa assolutamente possibile razionale però il fatto di capire che davvero si può fare qualcosa anche di più di quello che pensiamo io credo sia molto utile e molto vero senti l'ultima ci sono un sacco di donne incredibile ecco appunto a questo punto quindi vorrei anche lasciare una mail se fosse possibile e eventualmente anche poi direttamente il numero di telefono allora Flavia Trieste ti chiede sei riuscito a trasmettere ai tuoi figli la passione per lo sport e se sì per quale sport penso di sì però della ginnastica non gli fregava niente hanno provato diversi sport poi Dimitri si è appassionato al judo purtroppo ha dovuto smettere per problemi fisici ma adesso ha la passione per la regia per il cinema quindi ha trovato la sua passione e va bene invece Anastasia è proprio come me è solo che ha trovato una passione straordinaria per uno sport molto bello ma particolare come l'equitazione fa il completo quindi dressaggio salto e cross ha già il suo cavallo insomma è già a livello golistico abbastanza importante però ha una grande passione tu la segui la vai sì sì non ti vede come colui che gli mette un po' di pressione nel modo più assoluto fai conto che a casa nostra ti parla strano ma non ho un trofeo una medaglia una foto niente proprio perché è giusto che non abbiano questo tipo di pressione non ce l'hanno sono ragazzi straordinari per me queste sono le vere medaglie le vere mie medaglie si chiamano Anastasia senti ci stiamo per salutare se c'è una parola che ti riassume che riassume la tua vita se è una parola simbolo insomma che hai in testa con la quale congedarci dai nostri amici un difficilotto però ecco magari potrebbe essere sogno 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 perché perché ho capito nella mia avventura sportiva umana che se ci credi fino in fondo ogni sogno è realizzabile straordinario allora posso dire che invitare tutti a rivedere questa questa puntata sul canale youtube alliance experience perché è stata una puntata veramente grazie speciale grazie a tutti voi e qui metto pressione a Elisa Di Francesca che sarà la prossima protagonista di questo incontro andrà benissimo dovrai essere brava non so se non ci vede brava come lui ma lo sarai sicuramente certamente e quindi l'appuntamento è per la prossima puntata a Elisa Di Francesca da Iesi che è la stessa città di provenienza del nostro città della nazionale Roberto Mancini grazie grazie a tutti voi grazie a te Alessandro di cuore grazie grazie a te Alessandro grazie a te Alessandro grazie a te Alessandro grazie a te Alessandro i continenti. Siamo con chissà che senza coraggio non esiste successo, né divertimento, né vita. Siamo a fianco di chi ha il coraggio di iniziare un'attività o di creare una nuova famiglia. Siamo con chi sa crescere con la fatalità, con la sconfitta, ancora più che con il successo. Condividiamo i loro trionfi e i loro drammi. Perché siamo nati proprio per questo. Diamo protezione e sicurezza perché la nostra azienda è solida, forte e costruita per affrontare e superare le difficoltà. Sappiamo cosa fare e indichiamo la direzione perché capiamo il mondo. Conosciamo le vite e i bisogni dei nostri clienti. Agiamo con integrità, parliamo sinceramente e manteniamo le promesse. Tutte le nostre azioni vogliono incoraggiarti a prendere in mano la tua vita. Vai avanti con coraggio. Noi siamo con te.